Bilancio positivo per la tre giorni di Artidea, la mostra dell'artigianato artistico organizzata dalla Confartigianato Impresse Teramo in collaborazione con la Camera di Commercio di Teramo al Tortoreto Lido. Ieri, venerdì 28 agosto, la mostra ha avuto luogo in via Carducci, il corso centrale di Tortoreto, nell'ambito del mercatino estivo. Una fola di visitatori sia locali che turisti ha ammirato con interesse gli oggetti dell'artigianato artistico esposti nello stand allestito della Confartigianato. Un mix di arte, manualità e creatività. Ceramiche di castelli, strumenti musicali, oggetti decorati a mano, quadri e cornici, vetri artistici, pelletteria lavorata a mano. Non solo per deliziare gli occhi ma anche il palato, infatti gli ospiti hanno potuto assaporare prelibati liquori prodotti da aziende artigiane della nostra provincia. Anche le due serate di Artidea, svoltesi sempre a Tortoreto, nella zona antistante dello stadio, nell'ambito della ventunesima buffata di pesce, hanno registrato un notabile flusso di visitatori. In molti si sono soffermati ad osservare i dettagli dei preziosi oggetti dell'artigianato artistico e hanno chiesto informazioni sulle attività svolte dalla Confartigianato e dalla Camera di Commercio. Qualificati i collaboratori, anche per quanto concerne l'ANAP, l'Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Emanazione della Confartigianato, hanno potuto fornire presso lo stand tutte le indicazioni riguardanti i diversi settori dell'artigianato. L'obiettivo di questo evento è stato quello di far uscire l'arte dai laboratori artigiani per poter comprendere e intraprendere il lavoro dell'artigiano del settore artistico. Un ulteriore scopo del progetto è stato quello di far apparire l'artigianato agli occhi della gente non più come attività manuale ma anche artistica. La Confartigianato e Imprese Teramo, grazie al contributo camerale, ha coinvolto gli imprenditori artigiani del comparto artistico e le attività commerciali del luogo di svolgimento della mostra.